Si diplomò all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. La svolta come attore teatrale avvenne nel 1945 quando, al Teatro Eliseo di Roma, interpretò il Candeliere e la carrozza del Santissimo Sacramento di Prosper Mereme, accanto ad Andreina Pagnani, nell'edizione diretta da Orazio Costa. Questa performance diede il via a una serie di validissime interpretazioni in numerosi spettacoli. La Tempesta, Il Gabbiano, Enrico IV, Il Corvo, Giulio Cesare, La Folle di Ciaillo, diretti da Giorgio Streller, in Filippo, diretta ancora da Orazio Costa, in Antigone, Delitto e Castigo, Lo Zoo di Vetro, Euridice, morte di un commesso viaggiatore. Tre sorelle, diretti da Lucchino Visconti, a partire dal 1945 si produsse anche nel cinema, interpretando però quasi sempre a ruoli di secondo piano. Conseguentemente lavorò anche nel doppiaggio. Il suo rigore stilistico e il trentennale sodalizio artistico con Romolo Valli, con il quale ebbe anche un lungo rapporto sentimentale, ne fecero uno dei più prestigiosi registi teatrali del dopoguerra. La sua caratteristica principale era quella di lavorare intensamente sullo stile recitativo degli attori, di cui nulla veniva lasciato alla loro libera interpretazione. Le messe in scena delle principali opere di Luigi Pirandello, tra le quali si ricordano sei personaggi in cerca d'autore. Così e se vi pare, il gioco delle parti, Enrico IV, trovarsi, furono salutate dalla critica come un determinante contributo alla modernizzazione e alla attualizzazione dell'opera dello scrittore siciliano.